e la pendolari qui che vi parla elitreni e sono qui per dirvi una cosa importante parliamo del futuro alternativo del centro italia ecco siccome ho impegni in tutta la settimana e questa serie mi sta costando parecchi sforzi e tempo per farla bene come l'ho sempre fatta o una cosa da dirvi che a molti di voi non piacerà purtroppo devo mettere questa serie in secondo piano spiegato meglio la continuerò nelle vacanze di natale quando avrò meno impegni e più tempo ovviamente non la cancellerò la terrò in sospeso fino al 23 dicembre ma una notizia buona adesso vi ricordate dell'annuncio dell'inter city notte 794 quello con più fermate d'italia se non lo avete visto andatelo a vedere cliccando lei che comparirà in alto a destra per capire la mia idea sto pensando di mettere una nuova serie che mi terrà occupato molto meno ok che devo finire gli annunci a torino porta nuova come mi avete detto su instagram ma la mia nuova idea è come nel video del 7 94 nei commenti mi chiedete un numero di un treno è come per quel video farò il suo annuncio con tutte le fermate intermedie mostrate sulla mappa se volete potete cominciare pure da adesso a chiedermi vari numeri di treni e cercherò di farli il prima possibile detto questo bella raga